Allora, quest'altro errore è sempre dietro la porta, cioè quando si è finito il ciclo bisogna controllare che tutte le messe in tavola siano non in formato foglio. Questo mio allunno si è dimenticato per questa operazione, per questo foglio che indica l'operazione, si è dimenticato di chiuderlo, a questo punto si vede il formato foglio e non si vede il disegno, e dunque bisogna, quando si è finito, far scorrere tutti i fogli, tutti i fogli devono essere usciti in formato foglio, dal formato foglio, perché sennò succede questo, quando si vede blu, siccome il formato foglio non è bloccato, e soprattutto quando non si vede il disegno, cioè è che il formato foglio è attivo, e dunque bisogna, come si dice, uscire dal formato foglio, a questo punto viene stampato questo foglio corretto. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.